Il doppiaggio non nasce oggi e ne morirà domani, vi appresterete a leggio e capirete che cosa significa comunque adattarsi a un certo tipo di recitazione. Sicuramente sono varie le forme per entrare in questo ambiente è chiaro che la base è la recitazione. Deve saper recitare, deve avere un'ottima edizione e deve entrare in quello che fa l'attore straniero da doppiare. È essenziale formarsi in una scuola che ti insegni a recitare, che ti insegni la dizione e che ti insegni praticamente a doppiare. Bisogna avere a disposizione una regia con degli strumenti, con un produs, con una sala, con dei microfoni professionali, con un fonico, con persone che fanno questo mestiere. Questo è determinante. Grazie. 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 Grazie.